presentato ad orvieto mercoledì 21 marzo 2012 il tredicesimo rapporto sos impresa dal titolo le mani della criminalità sull'impresa i numeri e le analisi contenuti nel rapporto si avvalgono delle testimonianze dirette degli associati di sos impresa operanti sul territorio ne abbiamo parlato con lino busà autore del rapporto la lombardia dal bemonte dall'emilia ma comunque è un territorio nelle mani nelle quali nei quali le organizzazioni criminali reinvestano riciclano sono presenti soprattutto nell'edilizia nella ristorazione nel settore dei giochi non c'è nessun allarmismo che viene dal rapporto di sos impresa ma guai ad abbassare la guardia perché la prevenzione e l'attenzione è un elemento fondamentale di contrasto delle organizzazioni criminali tra i vari reati segnaliamo l'usura con un reato in crescita in tutta Italia anche in questa regione soprattutto con la crisi economica l'usura sta conoscendo un vero e proprio boom anche se le denunce sono poche dobbiamo interrogarci su questo ed elevare il livello di fiducia verso le istituzioni verso le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria l'associazione come sos impresa può essere utile a che le persone gli imprenditori possano denunciare in condizioni di sicurezza